Chiara Dallora, una vittoria importante, un sette bello sette vittorie in fila, hai fatto anche un ingresso determinante nel secondo sette, quali le tue sensazioni? È stata un'ottima partita, abbiamo giocato molto bene, è un'avversaria che può essere pasticlosa come è successo con altre scuole di attrazione classifica, noi siamo messi un attimo in difficoltà, soprattutto per i primi nostri nel terzo sette e alla fine eravamo sotto per sentire molto bravi per rimanere il gioco e alla fine è successo. A te era un mezzodendi, no? Quindi hai vissuto in maniera particolare? Eh sì, in centa, sì, giocavo a Pado, poi sono di Verona, quindi era una partita un po' particolare, però mi piace questa scuola. In bilancio di questa primissima parte di stagione, sei contenta di aspettare qualcosa di diverso? Oddio, mi aspettavo di essere tra le squadre più favorite del campionato, dobbiamo giocarci, è tutto ancora da vedere, sicuramente stiamo andando bene i risultati di questo.